Il Teramo ipoteca la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e i Biancorossi espugnano il campo della Virtus Cupello 3-0 nella gara di andata dei quarti di finale. Il ritorno del prossimo 18 ottobre al Bonolis sembra una pura formalità. Ben più robusto il turnover operato da Pomante che ne conferma 5, Negro, Sanseverino, Cipolletti, Tureff e Raioli e inserisce Sorrini, Massarotti, Scipioni, Mercado, De Marcellis e Rei. Il Teramo passa al ventitresimo, il diagonale di Tureff è mortifero per l'estremo di casa. Forti proteste dei rosso-blu per la posizione di partenza dell'attaccante Biancorosso. L'arbitro e l'assistente convalidano la marcatura. Minuto 35, Rei a provarci di Giacomo Attento. La ripresa si apre con l'arrivo dei tifosi terramani nell'impianto dell'Alto Vastese, ma soprattutto con altre due marcature aprutine che archiviano con grande anticipo la sfida. Minuto 8 è splendida la conclusione di Mercado che non lascia scampo al numero 1 di casa. Tre giri di lancette più avanti e Tureff a griffare il Tris, partendo in velocità in posizione regolare, superando Di Giacomo e depositando in rete. Quarto centro per il Guineiano, sempre più capocannoniere di Coppa. Il si chiude con i giocatori terramani che festeggiano con i propri tifosi e pensano alla gara di campionato in casa dell'Ovidiana Sulmona.